Dopo Oscar Aiello, questa volta il consigliere comunale Salvatore Licata a sottolineare come il non funzionamento dei parcheggi a pagamento risulti negativo sia in termini di bilancio comunale sia in termini di funzionalità, in quanto, a detta del consigliere Licata, la città e soprattutto il centro storico risulta semi-paralizzata, determinando disagi e ritardi a chi deve recarsi sul posto di lavoro. Per quanto riguarda invece il bilancio comunale, Licata afferma che i mancati introiti si tramuteranno in minori spese per la già insufficiente manutenzione delle vie cittadine e per la sicurezza stradale a cui le entrate derivanti dal pagamento dei parcheggi dovrebbero essere destinate. Il consigliere poi parla anche dei 10 dipendenti che sono rimasti senza lavoro e dice che con le braccia conserte aspettano di ricominciare a lavorare per portare a casa il pane per i propri figli. Grazie.